Ad aprire il Riviera International Film Festival di Sesti Levante è stato il film Io e il Secco tra gli 11 film in concorso di questa edizione 2024. Sono con Andrea Lattanzi, Il Secco, proprio questo ruolo che ha interpretato e che racconta due tematiche importanti. Da una parte un'amicizia un po' particolare, dall'altra un tema come quello della violenza sulle donne ma in una maniera molto delicata. Che cosa ti ha colpito di più nel fare questo ruolo, complicato, ma anche questo film? Grazie innanzitutto per le belle parole. Sì, come hai già detto tu, non è solo un film che parla della violenza ma anche un film che tratta sul tema di un'amicizia, una crescita che affronteranno i due protagonisti, i due personaggi che è l'altro, il bambino Francesco Lombardo e ci sono io poi che faccio il secco. È stata un'esperienza magnifica, è stata una bellissima esperienza affrontare un lavoro soprattutto con lui, con il bambino perché non è facile insomma ma i bambini hanno la capacità di leggere anche e soprattutto l'anima di una persona, lo vedono. Mi ci sono trovato fin da subito con lui per il semplice motivo che avevo già affrontato dei casting prima per cercare appunto il bambino e quindi già da lì era nata un'amicizia e poi è nato tutto insieme Gianluca, un regista magnifico, tutto il cast, è stato tutto perfetto tutto, non lo so, quindi alla fine poi insomma mi sono lasciato andare questo. Cosa significa per voi far parte del Riviera International Film Festival e partecipare a questa edizione? Magnifico, io non conoscevo il festival ma wow, cioè nel senso non sapevo proprio veramente a parte che è giovane, è un festival nato da poco, appena nato però venendo qui è un festival che consiglierei veramente di cuore a tutti uno per il posto che è magnifico, due per l'organizzazione che avete e tre perché organizza tutto, nel senso è tutto perfetto e poi soprattutto anche per la giuria che c'è, c'è stata anche l'anno precedente che c'è quest'anno che è pazzesca e sono presenti, comunque sono lì ti giudicano ma ti giudano nel modo giusto anche se magari non è piaciuto, è piaciuto per fortuna il nostro è piaciuto tantissimo, però oltre a quello, a prescindere da quello veramente un posto stupendo, magnifico, organizzazione bellissima. Andrea, tantissimi progetti che ti hanno visto farne parte, da protagonista, da coprotagonista io personalmente ti conoscevo da Summertime, che sicuramente è un prodotto diverso rispetto a quelli che magari hai fatto, che cosa però accomuna la serie Summertime e i film e i personaggi che hai interpretato all'interno degli altri film? Beh, allora, il punto importante è che in Italia i ruoli sono quelli che sono nel senso non abbiamo una vastissima scelta su quello anche che possiamo fare ed è vero che anche noi attori comunque abbiamo, non dico difficoltà però dobbiamo anche accettare quello che ci viene dato, nel senso si dice pure noi dobbiamo mangiare a Roma in qualche modo io ho, allora, non dico che ho, anzi, ho rifiutato tanta roba, tantissima roba ho sempre però cercato di rendere, di dare ai miei personaggi un qualcosa di vero di renderli, dargli quella autenticità l'ho fatto, ho cercato di farlo con tutti i personaggi che ho fatto molto, hanno molto in comune tra tutte le cose che ho fatto un po' dato vuoi dalle sceneggiature che mi sono arrivate un po' dato vuoi dal fatto che comunque amo quei tipi di personaggi dove comunque hanno un'anima, hanno quella sensibilità hanno un carattere in un certo modo cerco di differenziare ovviamente ogni tanto di quel poco che posso fare e vorrei anche fare altro in realtà, cioè nel senso sono propenso a fare altro arriverà il momento giusto e il mio sogno? ci sono passati due treni che purtroppo non ho potuto prendere dovevo fare un progetto importante americano e purtroppo non ho potuto perché ero già incastrato in un'altra roba il mio sogno sarebbe quello di essere uno degli attori italiani riconosciuti anche fuori quindi lavorare, cercare di avere l'opportunità magari di farsi anche conoscere fuori mi piacerebbe tantissimo far parte a un progetto grande ma non perché voglio essere qualcuno di quello a me non me ne è fregato nulla proprio perché voglio mettermi in gioco voglio fare dei personaggi dove voglio sporcarmi diventare crudo voglio sperimentare insomma questo anche perché dall'America è da lì che sei partito proprio nella tua formazione la mia carriera è partita dall'America assurda, una follia è partita tutta da lì ero a New York, ero un ragazzo giovane senza una lira, non conoscevo nessuno sono andato lì come un pazzo da solo e poi ovviamente poi per necessità e tantissime altre cose non sono potuto rimanere lì però è stato tutto un po' come se fosse stato cioè è tutto scritto già da lì poi ho visto che c'era questa cosa al Festival di Roma quindi sono tornato a fare questo evento di Rebby Casting al tempo e poi da lì è cambiata tutta la mia vita cioè comunque mi sono messo in gioco l'America mi ha dato tanto mi ha attivato perché lì è tutto frenetico tutta energia e la cosa bella degli americani me ne sono accorto anche ieri quando Susan poi si è avvicinata mi ha detto delle bellissime cose che non dico non c'è bisogno di dirle la cosa bella degli americani è che loro non hanno invidia loro apprezzano quello che fai se lo fai fatto bene e hanno quel modo energico di farti capire di dire bravo keep going go bravo cioè no tu hai ispirato me quindi mi ha dato tanto anche l'America consiglieresti il tuo stesso percorso insomma anche a un giovane anche così per caso beh sì se siamo in coraggio sì nel senso è tosta non è facile non è un mondo facile soprattutto per chi non è figlio d'arte io non sono figlio d'arte non vengo da certo ho fatto il triplo della fatica ho fatto tutto da solo cerco di mantenere quell'umiltà e quindi quel consiglio che do è non montatevi la testa studiate siate determinati se veramente ci credete continuate a farlo è un po' scontata come frase però è così grazie ad Andrea Lattanzi per essere stato con noi ti aspettiamo allora qui in Liguria prestissimo grazie grazie mille grazie mille grazie mille